Vediamo che appena ha acquistato il Corriere della Sera dove c'è tutta una parte dedicata a Torino perché qui è un nuovo inserto, curioso. Ho avuto l'informazione e ero curioso di vedere come avrebbe trattato i fatti di Torino il Corriere di Milano. Intanto è una cosa positiva che qui a Torino sia stata aperta una redazione. Più aumenta l'informazione, penso che l'aumento di informazione sia sempre un'opportunità per i cittadini. In edicola il Corriere Torino lo sapeva? Sì, lo sapevo già. Sì, è una cosa bella che Torino sta facendo, proprio per questo cittadino di Torino. Una testata storica come il Corriere è giusto che abbia una redazione anche in una città altrettanto storica come Torino. Sì, sì, infatti. Così la gente si informa di cosa succede nel nostro territorio. Sta per comprarlo visto che siamo qua vicino in edicola? Sì, sì, infatti. Ma bene perché avremo due quotidiani diciamo che magari trattano, vediamo un po' come trattano l'argomento, insomma, questo è positivo. Intanto hai recepito questa notizia in modo positivo perché sicuramente più informazioni per i torinesi. Certo, sì, sì, sì. Vabbè, sono contenta. Il Corriere di Milano ha aperto una redazione a Torino, Corriere Torino in edicola. Cosa ne pensa? Bene. Quanto più si moltiplica, insomma, si aumenta la possibilità di voci diverse, tanto più si sta bene, insomma, nella società civile. L'ha comprato o lo comprerà? Lo comprerò sicuramente, sì. L'attenzione al locale, secondo me, è sempre una bella cosa. Vedo la stampa con la pagina di Asti, con la pagina di Torino. Cioè, secondo me, un giornale, oltre ad avere un panorama mondiale, nazionale, se scende anche al locale, secondo me, ha un maggior mercato ma soprattutto una maggiore capacità di incidere. Perché, mentre i media sono generalisti, cioè a parte le pagine dedicate, si parla sempre o di Trump o di Germania o di Brexit, c'è la pagina di Torino ma non la caga nessuno, invece un giornale può riuscire a coprire proprio una nicchia di informazione e di approfondimento soprattutto, locale, che secondo me ha la sua bella importanza. E poi un'attestata prestigiosa, secondo me, dovrebbe avere un occhio di riguardo anche al piccolo pubblico. Perché i giovani, se non leggono, forse neanche perché non trovano qualcosa di accattivante. Il locale piace perché c'è un ritorno, un ritorno, diciamo così, all'identificarsi nel territorio. C'è persino troppo a volte, c'è una chiusura quasi eccessiva. Però io e i miei giovani l'interesse è scoprire la storia del paese, cosa c'era dietro, ha dei personaggi, ha delle vicende, perché così si trova l'identità.